Ciao e bentornati. Una delle cose più importanti che sappiamo sull'universo è che l'universo si espande e in questo video vorrei provare con voi a capire meglio cosa significa. Ma intanto, come sappiamo che l'universo si espande? Lo sappiamo perché quasi un secolo fa l'astronomo americano Edwin Hubble ha scoperto che le altre galassie si allontanano dalla nostra con una velocità proporzionale alla loro distanza da noi. Che cosa significa? Significa che tutte le galassie a una certa distanza si allontanano con la stessa velocità e tutte le galassie a una distanza doppia si allontanano con una velocità doppia e così via. Questa è una legge molto precisa che si chiama appunto legge di Hubble e che è stata confermata da tutte le osservazioni che abbiamo fatto fino a ora. È veramente uno dei fatti che conosciamo meglio e di cui siamo più sicuri sull'universo. Ma come si spiega questo fatto? Come si spiega l'esistenza della legge di Hubble? Beh, ovviamente non possiamo pensare che ci sia qualcosa di speciale nella nostra posizione nell'universo e che tutte le altre galassie si stiano allontanando da noi. E quindi questo moto deve essere generale. La distanza tra due galassie qualunque nell'universo cresce con il passare del tempo. Per fortuna abbiamo anche una spiegazione fisica di questo fatto. Ricordate che la teoria della relatività generale di Einstein ci dice che lo spazio non è statico, che può deformarsi, dilatarsi, curvarsi. Bene, se usate la relatività generale per costruire un modello di universo, una delle soluzioni possibili è proprio quella in cui lo spazio si espande con il passare del tempo. E questo spiega perfettamente la legge di Hubble. Una domanda ricorrente è dentro cosa si espande l'universo? E la risposta è dentro nulla, perché l'universo è tutto quello che c'è. Non c'è uno spazio esterno in cui avviene l'espansione. La ragione per cui molti si pongono la domanda è che visualizzano l'espansione dello spazio in maniera sbagliata. Immagino che le galassie siano state scagliate via da un'esplosione e che si stiano appunto allontanando come le schegge da un punto centrale e che si muovano quindi nello spazio. Ma in realtà le cose non stanno così. È lo spazio che si dilata, le galassie sono ferme nello spazio e vengono trascinate via dall'espansione. E questo avviene esattamente nello stesso modo in tutto lo spazio. Un esempio che può aiutare, che viene usato spesso, è quello di un palloncino di gomma che si gonfia. Se disegnate dei puntini sulla superficie del palloncino, i puntini sono fermi sulla gomma, ma la loro distanza, la distanza tra un puntino e l'altro, cresce con il passare del tempo perché il palloncino si gonfia. Naturalmente in questo esempio dovete immaginare che l'universo è solo la superficie del palloncino, solo la gomma e quindi che l'universo abbia due dimensioni, non tre come quello in cui viviamo. Inoltre in questo esempio l'universo è curvo come una sfera, ma non è necessario immaginare un palloncino. Potete anche immaginare semplicemente un foglio di gomma piatto, elastico, che si estende ovunque all'infinito e che si dilata con il passare del tempo. Di nuovo, se ci sono dei puntini disegnati su questo telo elastico, la loro distanza, la distanza tra un puntino e l'altro cresce con il passare del tempo. E questo è il modo corretto di visualizzare l'espansione. Se volete usare un esempio in tre dimensioni potete immaginare per esempio la pasta di un panettone che lievita e gli acini di uva passa che stanno all'interno della pasta del panettone che si allontanano uno dall'altro con il passare del tempo. Se visualizzate le cose in questo modo non solo capite che non dobbiamo immaginare qualcosa all'interno di cui avviene l'espansione, ma che non c'è neanche un centro nell'espansione, che ogni punto è esattamente equivalente a tutti gli altri. Se noi osservassimo le cose da un'altra galassia vedremmo le altre galassie allontanarsi da noi, esattamente come avviene dal nostro punto di vista attuale. Quindi non ci sono posizioni privilegiate nell'universo e non c'è un centro dell'espansione. L'espansione avviene esattamente nello stesso modo in tutto lo spazio. Un'altra domanda ricorrente è ma se l'universo si espande non dovrebbe espandersi anche la nostra galassia, il sistema solare, la Terra, magari noi stessi? La risposta è no, perché l'espansione è un'espansione dello spazio, non degli oggetti. Se un sistema fisico è tenuto insieme da qualche forza, una forza gravitazionale o chimica o di altra natura, quell'oggetto non segue l'espansione dell'universo, non si dilata con il passare del tempo. Quindi la nostra galassia non si espande, il sistema solare non si espande e noi non diventiamo più alti. Infine, per la stessa ragione, è possibile che esistano galassie che non si allontanano tra loro. Se le galassie sono molto vicine tra loro e la loro interazione gravitazionale vince il moto di espansione, quelle galassie possono avvicinarsi, non seguire esattamente la legge di Hubble. Questo avviene per esempio per la galassia più vicina alla nostra, la galassia M31 in Andromeda che si sta avvicinando a noi, anzi in futuro la nostra galassia e la galassia di Andromeda si uniranno e formeranno un'unica supergalassia. È anche possibile che due punti molto lontani tra loro nell'universo si allontanino a velocità maggiori della luce e questo non contraddice la relatività di Einstein, perché la relatività ci dice che non si può superare la velocità della luce muovendosi nello spazio, ma se è lo spazio stesso a espandersi, i due punti possono allontanarsi a velocità maggiori di quelle della luce. Bene, spero che questo video vi abbia chiarito un po' le idee sull'espansione dell'universo. Per essere informati sui prossimi video iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e ci vediamo alla prossima. Ciao!